buonasera ben ritrovati con l'informazione comincia un'altra settimana con il tg web del quotidiano l'attacco un nuovo show però indetto per il prossimo 8 e 9 giugno per i lavoratori della omc di foggia l'officina di manutenzione ciclica afferente al gruppo trenitalia ad annunciarlo questa mattina è stato il segretario regionale della fast com salpuglia e basilicata pasquale e cataneo sentiamo mauro pitullo vertenza omc cos'è cambiato rispetto a due mesi fa sicuramente c'è un allargamento della questione perché è stata presentata pregevolmente dalla senatrice naturale con altri suoi colleghi del gruppo movimento 5 stelle una interrogazione scritta sui dati che noi abbiamo predisposto che fanno evincere proprio quali ingiustizie e contraddittorietà c'è nelle scelte che sta attuando trenitalia nell'ambito dell'omc di foggia a questo noi aggiungiamo le sollicitazioni che abbiamo dato sia alla prefettura dalla quale attendiamo una convocazione perché per due volte l'azienda non si è presentata e stiamo proponendo con l'iniziativa di oggi un allargamento insieme con Filt CGL, Filt Cisle e Will Trasporti di un nuovo sciopero previsto per 24 ore dall'8 al 9 di giugno noi auspichiamo che anche i rappresentanti territoriali e cioè comune provincia anche le altre parti sociali acquisiscano l'importanza di questa vertenza e non in ultimo noi esprimiamo solidarietà ai lavoratori alle lavoratrici alle loro famiglie dell'ex Tozzi Sud e di Dopla per quello che sta accadendo il mezzogiorno la capitanata non può essere maltrattata in questa maniera soprattutto da aziende pubbliche e da multinazionali. Legalità e pensiero critico l'università di Foggia spinge a diventare cittadino consapevole con la città che vorrei l'iniziativa che ha preso il via proprio oggi si concluderà il 27 maggio ad aprire i lavori la memoria sulla strage di Capace ce ne parla Silvia Guerrieri da questa mattina prende il via il progetto la città che vorrei una bussola per la legalità le arti e il pensiero per arginare la violenza incapitanata il progetto risultato l'unico vincitore in Puglia tra i partecipanti al bando del ministero dell'università e della ricerca aggiudicandosi un finanziamento proveniente dal fondo per la diffusione della cultura della legalità le iniziative varie si concentrano sempre nell'ambito della terza missione per concretizzare un messaggio all'interno della comunità accademica e non solo si inizia martedì 23 maggio in occasione della triste ricorrenza della strage di Capaci 23 maggio 1992 infatti è un giorno che ha profondamente segnato la storia del nostro paese tanto che su tutto il territorio nazionale viene ricordato l'attentato di stampo mafioso ordito dall'organizzazione criminale siciliana Cosa Nostra che ha strappato la vita al magistrato Giovanni Falcone a sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani Rocco Di Cillo e Antonio Montanaro per l'occasione l'associazione studentesca azione universitaria di concerto con l'università ha inteso rendere omaggio alla memoria dei caduti con una manifestazione tenutasi presso il distum consistente nella piantumazione di una pianta all'interno del giardino della facoltà numerose ancora le attività le iniziative artistiche e culturali che culmineranno sabato 27 maggio dalle ore 19 con la notte bianca della legalità in cui tutti i contenitori culturali di via arpi resteranno aperti al pubblico fino al concerto dell'alba del 28 maggio al cura dell'orchestra young del conservatorio Umberto Giordano. Dalla riqualificazione per finalità di carattere culturale educativo e sociale a un parco fotovoltaico per la stazione di Foggia si profila l'ennesima beffa lo afferma il vicepresidente del consiglio regionale Gian Nicola De Leonardis di Fratelli d'Italia il quale spiega che nel 2019 fu siglato un protocollo di intesa tra vari soggetti tra cui RFI per un piano di interventi di riqualificazione di potenziamento dell'intera area ferroviaria. Un protocollo osserva De Leonardis che è stato disatteso facendo perdere ai foggiani una opportunità di rinascita di una zona tanto strategica quanto storicamente importante come quella della stazione da tempo degradata. Adesso per quelle aree RFI ha espletato una gara per installare nella zona adiacente a Viale Fortore un parco fotovoltaico. Un fatto conclude De Leonardis che va in controtendenza rispetto ad altre città della Puglia come ad esempio Bari, Barletta, Brindisi e Lecce. Sempre questa mattina alla Camera di Commercio di Foggia si è tenuto un incontro sulle comunità energetiche rinnovabili. Il servizio è di Domenico Suriano. Comunità energetiche rinnovabili in cosa consistano e che vantaggi apportano? Il tema delle comunità energetiche è un tema di grande attualità. Consiste nella normativa europea che dà la possibilità che ci sia produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e consumo della stessa energia in un luogo diverso. Quindi il legislatore italiano sta recependo la direttiva Red 2 per far sì che possano implementare CER soggetti privati, soggetti pubblici e associazioni con l'obiettivo che è quello di rendere i soggetti partecipanti alla CER sostenibili dal punto di vista energetico in una logica di ridistribuzione di ricchezza energetica tra tutti i partecipanti alla CER stessa. C'è la possibilità che vengano avviate quindi nel breve periodo? Assolutamente sì. Stiamo aspettando a giorni i decreti attuativi del Governo che andranno a definire in maniera dettagliata gli incentivi per l'implementazione della CER e soprattutto dell'energia consumata all'interno della CER. Quindi l'energia che sarà consumata in maniera collettiva tra i partecipanti alla CER sarà incentivata con una tariffa specifica e quindi avranno due benefici i soggetti partecipanti. Avranno un minor costo derivante dal minor consumo di energia per la produzione di fonte rinnovabili e l'energia che sarà consumata all'interno della CER usufruirà di un incentivo su questa percentuale energia che sarà consumata. Chiudiamo con lo sport e festa grande a Manfredonia dove il calcio torna a rubare la scena. La formazione di patron di Benedetto vince lo spareggio col Gallipoli e ritrova la Serie D dopo cinque anni. Pino Autunno. Il Manfredonia dopo cinque anni riabbraccia la Serie D. È festa grande il rival Golfo dopo che i Sipontini nello spareggio di ieri del Curlo di Fasano hanno avuto la meglio sul Gallipoli. Ci sono voluti però nove calci di rigore per decretare chi fra Biancazzurri e Giallorossi potesse abbandonare l'eccellenza. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'uno a uno. L'errore dal dischetto di Fruici ha liberato la gioia del Donia di Decandia che meritatamente approda in quarta serie. Per la felicità di patron di Benedetto che al primo tentativo ha subito centrato la promozione. È stato in ogni caso un dominio pressoché incontrastato in stagione quello del Manfredonia che ha prima condotto in lungo in largo il girone A di eccellenza e poi centrato l'ultimo atto di stagione eliminando il Biceglie. Ora si apre un nuovo capitolo per il calcio Sipontino che ritrovata la D così a lungo in seguita è pronta ad alzare la sticella dell'ambizione. Bene è tutto, grazie per essere stati all'ascolto del TG Web del Quotidiano L'Attacco, appuntamento come al solito domani sera sempre alle 20. Buona serata da Onofrio D'Alessio.